se penso a quante cose dobbiamo ancora fare per la casa pavimento rivestimenti piatto doccia robinetteria aspetta poi ci sta il box doccia il termo arredo ci sono i sanitari spenderemo una barca di soldi ma che cosa possiamo fare no è qui che ti sbaglio lo showroom dipinto trovi tutto quello che ti serve a 3900 euro e il più il mobile da bagno in omaggio dipinto showroom vi aspettiamo a visceglie in via santa chiara da sisi 13